Siamo alla Sagra del Suppli a Rieti, a Villarietina. Mi raccomando, venite carissimi amici, vi aspettiamo. Siamo alla Sagra del Suppli a Rieti, a Villarietina. Mi raccomando, venite carissimi amici, vi aspettiamo. Siamo alla Sagra del Suppli a Rieti, a Villarietina. Mi raccomando, venite carissimi amici, vi aspettiamo. Siamo alla Sagra del Suppli a Rieti.